ben trovati amici di apertamente web punto com il portale della psicologia e della psichiatria da oggi mi occuperò di raccontare degli scritti e delle pagine di molti autori in questa rubrica i libri che curano la lettura come terapia un libro è come uno specchio che riflette l'immagine di chi lo legge le parole scritte sono i nostri pensieri le frasi stampate diventano la nostra storia il dialogo interno diventa esperienza che fa vivere emozioni le colora e le traduce in relazioni sale leggere un libro un viaggio introspettivo uno spazio di riflessione di autonomia di accudimento accettazione e riconoscenza di libera espressione di empatia di assertività volto alla scoperta e alla riscoperta di se stessi e degli altri al fine di prevenire e potenziare il benessere psicologico ciao e alla prossima